Con una sola voce tutti cantano e pregano con il desiderio che la pace e soprattutto l'unità siano sempre nei loro cuori. L'importanza di questo evento ad Haifa è molto grande perché riunisce varie chiese e gruppi apostolici di diverse confessioni, ortodossi, cattolici, maroniti, anglicani, armeni ed altri. Haifa è il centro di questo lavoro di unità. Questa unità è utile e necessaria e certamente porta gioia al Signore. Ci sono alcune persone in piccoli gruppi, tra i cattolici e gli anglicani, che passano insieme il tempo con il desiderio di comprendere altre confessioni cristiane. Possiamo unirci gli uni con gli altri provando a riunire la comunità umana intorno ad un'amicizia. Conversione, ospitalità, forza, fiducia, speranza, luce e riconciliazione è la chiamata di Dio per noi oggi. Sull'esempio di San Paolo, che in passato accolse tutti, nonostante le differenze di fede, pratica e cultura, così siamo chiamati ad accogliere i fratelli e le sorelle migranti. La lettera di San Paolo ci insegna a vivere una vita devozionale, vivere la fede, vivere la riconciliazione tra noi e l'ospitalità per gli stranieri. Quando parla di stranieri non parla di stranieri intesi nel senso di altre persone, bensì si riferisce ai cristiani e ai non cristiani, ai credenti e ai non credenti.